Venerdì 5 agosto 2011, siamo in porto, i nostri vicini di porto che arrivano tranquilli, precisi, stendiamo la biancheria, siamo qua, l'ultima sera abbiamo appena fatto la doccia, domani gli consegniamo la barca, giusto skipper? La settimana è andata bene, il tempo è stato ottimo, temperatura ideale, anche dell'acqua eravamo sempre attorno ai 30 gradi, quindi praticamente un idromassaggio. Siamo in porto, abbiamo caricato l'acqua e l'elettricità, quindi non ci sono preoccupazioni, questo rottame qua, chiamato tendero gommone, che ci ha permesso le altre sere di andare al ristorante, con il sedere bagnato ovviamente, soprattutto ieri sera, che ha smesso di funzionare, non ci servirà più perché ci hanno dotati, chiaramente in porto, di questo bellissimo, come possiamo chiamarla, passerella, tappeto rosso, tipo Venezia, red carpet, che non è proprio red carpet, che ci permetterà di raggiungere il molo senza bagnarci i piedini, da verivip, esatto, questo tra l'altro possiamo chiamarlo che è il nostro posto in barca, ciao, 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 quello lì sarebbe quello lì che ci controlla domani la barca, se è tutto a posto, è già venuto un sub che ha controllato sotto, comunque, solite balle, abbiamo offerto anche l'aperitivo, quindi se vede qualcosa sa già che non deve vedere, abbiamo corrotto con una bottiglia del vino da 2,50, di ottima qualità, di ottima qualità, altro che quelli croati, già fresca, fresca, esatto, poi stasera Roby dov'è che andiamo? A mangiare, ma dove andiamo a mangiare? A Pula, l'acqua, il ristorante là, il ristorantino, il ristorantino là, esatto, tranquillo, vediamo se intravede, così lo vediamo meglio, preciso, lì vicino, e vabbò, poi domani mattina, ultimo saluto, e ci dirigiamo verso casa, la settimana è finita, e ci vediamo fra almeno 300 giorni, poi saranno di più, o di più, di più, di più, ma sempre di più saranno, eh, to be the continent, ciao, 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 ministro.